Oggi alleniamo la velocità. La velocità è importante perché è quell'elemento essenziale che ci permette di muoverci più rapidamente possibile in campo e di raggiungere la palla per colpirla nel modo più ideale. Oggi vi mostrerò 4 esercizi per allenare la velocità e potete allenarlo ovunque voi siate, anche in palestra e in campo. Esercizio numero 1. Velocità di spostamento. Eseguo degli spostamenti in diagonale anteriore e posteriore. Anteriore, avanti, laterale, posteriore, laterale, puntata. Esercizio numero 2. Velocità di reazione. Lancio la pallina verso la grata e faccio modo di prenderla al volo, al mio meglio. Esercizio numero 3. Velocità di spostamento latero-laterale. Stimolo l'accelerazione, la decelerazione, stop e ripartenza. Esercizio numero 4. Velocità di spostamento e velocità di reazione. Lancio la pallina verso il vetro, mi sposto in maniera all'altra laterale e prendo la pallina. Iscrizi numero 4. Joel Un iscrizio numero 42. Velocità di beregn zeker. Lascia di camende lock le voce e ripartenza è la terra a livello della calta. O Suri cuore dei controlli ecco. Grazie a tutti